ragazzi siamo in un nuovissimo video non sono tanto contento io di far sto video perché ragazzi le api ci hanno sciamato quindi qua ci abbiamo apie men io ho paura proprio fa detto che tempo non non dovrebbero fissare però guarda qui è pieno ragazzi ma un pizzano importante è che la scala faccia dei brutti scherzi ma come lo fai a far cadere e ora non so quanto pesa lo scrollo qua dentro non è che pesa ne ti cade aspetta non si riesca a capire la scala dove è appoggiata tutti pronti non fa niente filippo non c'è pericolo che ti boccano ecco qua Ok, mi cadono in terra, cosa vuoi che faccio? Speriamo che vada dentro tutte il più possibile e che ci vada la regina più che altra. E come lo chiudi qua? Sta zitto Filippo che se la scala non è messa bene mi si gira e vengono giù tutte. Una volta che sono dentro poi non si muovono più. Però adesso devo liberargli un po' qua sennò si staccano tutte. Ma ci va a cadere proprio tutto? Eh sì eh. Ok. Ok. Ecco. Poi lo passi e ritorni via. Ma il coperchio? Il coperchio non mi dovrebbe servire. Vieni. Aspetta eh. Stai a vedere che ci cadono tutti in testa. No no no. Vieni. Vieni. Ok. Vai via. Vai via. Vai via. Fai contro la rovesca. Aspetta perché. Adesso qua. Pesano. Eh un po' pesano qui. Ce n'è ancora attaccata la pianta eh? Cosa ci ho visto? Sai che la dovevano fare? Dovevo segare su in alto e segare quel pezzo lì e portarlo giù così. Tanto non si muoveva. Mentre in attacchi. Non mi piace perché vedete Armenc. Come si fa rimanere? Fermaci. Facci la tavola. Così mi sacro. E te papà. Fermaci. Tutto bene. è un po' più forte la pista c'è un po' più serio, ci lo metterò domani, domani è chiuso è un po' più forte 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 ok ragazzi, abbiamo fatto la missione compiuta mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e un prossimo video ciao raga